Una banca da sempre vicina al territorio e alle realtà produttive che ora, grazie alle imprese e alle famiglie, è più forte sui mercati. È la Banca Popolare del Mezzogiorno che ha completato con grande successo l'operazione di aumento del capitale sottoscritto da quasi la totalità degli azionisti. Il tema è stato al centro dell'Assemblea che si è tenuta alla messa a termine alla presenza di diversi professionisti ed imprenditori, del Presidente dell'Istituto di Credito Calabro Lucano Francesco Antonio Lucifero, del Direttore Generale Roberto Vitti e del Responsabile Area Calabria Sud Giancarlo Ventimiglio. La banca del Mezzogiorno è su quattro regioni, Calabria, Basilicata, Puglia e Sicilia. Abbiamo 114 filiali, 153 mila conti, per cui siamo una banca molto inserita sul territorio. È chiaro che le zone di principale insediamento sono la Calabria, dove c'è la popolare di Crotone, e la Basilicata, dove c'è la popolare di Materano, che poi si sono fuse, mantenendo la direzione generale a Crotone. Per cui è una banca molto inserita nella regione Calabria. L'aumento del capitale che riguarda l'intero gruppo bancario capeggiato dalla BIPEM, è la banca popolare dell'Emilia Romagna, consolidare la situazione patrimoniale, garantisce la liquidità necessaria per fare investimenti e per proseguire la mission principale, che è quella di sostenere gli imprenditori e le famiglie, soprattutto in tempo di crisi. Un'operazione che si inserisce in un quadro che in Calabria vede crescere la propensione al risparmio, 1,7% in più nell'ultimo anno, secondo i dati AB. Il problema è che a volte i privati non hanno il coraggio di comprarsi le abitazioni, perché tra una cosa e l'altra vuoi la crisi, vuoi anche il problema fiscale, e le imprese hanno paura a fare gli investimenti. Noi siamo prontissimi a dare finanziamenti, se ci richiedono per delle nuove iniziative. Noi ci siamo e siamo al fianco delle imprenditori e delle famiglie.